E noi oggi quello che stiamo celebrando è un dono che ci è stato rivelato, un dono che intanto è stato rivelato a Jessica e Nino, è il dono dell'amore. Il libro del Silascio dice beato l'uomo che ha ricevuto in dono una brava sposa, il numero dei giorni sarà doppio perché i giorni avranno un gusto diverso e questo vale per Nino perché ha ricevuto come dono da oggi Jessica intanto come donna amata e oggi come sposa ma la stessa cosa vale per Jessica nei confronti di Nino, siete un dono l'uno per l'altro. Ciao! 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 Grazie a tutti